Test d'italiano per stranieri Livello A1 Hai 5 secondi per pensare alla risposta corretta. In alcune domande possono esserci anche più risposte corrette. Per avere più tempo puoi mettere il video in pausa. Domanda 1 Ieri io e Andrea mangiato una pizza. La risposta esatta è la D. Abbiamo. Ieri io e Andrea abbiamo mangiato una pizza. Domanda 2 Mauro è molto ricco. Possiede 4 sportive. Qui abbiamo due risposte esatte. Macchine e auto. Mauro è molto ricco. Possiede 4 auto o 4 macchine sportive. Domanda 3 Per conoscere la risposta esatta ti conviene al professore. La risposta esatta è ancora la D. Chiedere. Per conoscere la risposta esatta ti conviene chiedere al professore. La risposta esatta è la B. A che ora andiamo al mare? Io ho molto caldo. Domanda 5 Giovanni e Filippo sempre alla stessa mia spiaggia l'anno scorso. Giovanni e Filippo andavano sempre alla mia stessa spiaggia l'anno scorso. E' lì che ci siamo conosciuti. Domanda 6 Non è facile esperienza nel lavoro quando sei giovane? Non è facile avere esperienza nel lavoro quando sei giovane. Domanda 7 Per favore, accendere la luce? Non riesco a vedere nulla. Per favore, potresti accendere la luce? Non riesco a vedere nulla. Domanda 8 Quando ho molta fame, puoi mangiare davvero tutto? Quando hai molta fame, puoi mangiare davvero tutto? Domanda 9 Roberto non ha dormito per tutta la notte. Magari perché aveva caldo? O perché c'erano le zanzare? Domanda 10 Quali sono gli amici che preferisci? Quali sono gli amici che preferisci? La risposta esatta è la C Gli Gli amici Domanda 11 La risposta esatta è la D Mangiano I miei genitori non mangiano mai la verdura Domanda 12 Silvia In una scuola di Milano Silvia studia in una scuola di Milano Domanda 13 Luca A che ora La nostra lezione? Luca A che ora comincia la nostra lezione? Alle 8 Vedi di essere lì per le 8 Domanda 14 Io e Luca Molto spesso a pescare Io e Luca andiamo molto spesso a pescare Questo è tutto Grazie mille Scrivi i tuoi commenti Nei I tuoi risultati Nel commento vacca Grazie mille Si Grazie a tutti